sapete qual è uno degli obiettivi del governo per l'inverno distruggere l'evasione fiscale come bonus quindi sì signori soldi per chi utilizza la carta di credito meglio chi per chi deciderà di utilizzare la carta di credito come principale strumento di pagamento insomma dimenticarsi il contante o magari non andare a prelevare non sarà un problema questa volta anzi sarà un vantaggio ce lo chiede l'europa anche se in realtà questa riforma che in pratica rientra nei provvedimenti di quella che ormai è diventata l'italia dei bonus gira palazzo chigi già da diverso tempo e allora dicevamo ce lo chiede l'europa beh insomma eccolo qui si chiama il nome vero è piano cashback insomma soldi indietro la traduzione anche abbastanza abbastanza immediata per quello che di fatto è la prima misura contro l'evasione fiscale ovviamente non basterà anche perché basta basta vedere la cifra del sommerso cioè il costo del sommerso all'anno 109 miliardi di euro all'anno questo è il motivo per cui il bonus carta di credito il piano cashback non basterà ma è la prima mossa da parte del governo aspettando i soldi del recovery fund che sostanzialmente è la misura che arriva dall'europa che è proprio l'ente l'organo che ci chiede una lotta forte all'evasione fiscale vediamo allora di che cosa si tratta semplicemente si tratta di un bonus rivolto a tutti i consumatori che a partire dal primo dicembre 2020 quindi a partire da quest'anno spenderanno o meglio riceveranno 300 euro ogni anno un massimo di 300 euro ogni anno per tutte le spese che verranno documentate fino a 3.000 euro sostanzialmente in un anno dovremo essere in grado di certificare di documentare spese fino a 3.000 euro per quanto riguarda spese sia col banco sia con le carte di credito e se questi documenti verranno accertati e approvati riceveremo ogni anno 300 euro fino a un massimo di 300 euro nel nostro portafoglio attenzione però perché non sono previsti i pagamenti online queste operazioni si possono fare solamente con il bancomat e con la carta di credito non con i pagamenti online quindi senza l'utilizzo dell'home banking insomma o attraverso gli acquisti su piattaforme online e digitali questo ci porta a fare alcune riflessioni inevitabilmente perché è un limite ovviamente l'idea iniziale è quella di incentivare gli acquisti nei negozi riattivare quindi l'attività commerciale ma come detto insomma qualcosa non va lo abbiamo messo anche in grafica innanzitutto serve che i POS quindi gli strumenti le piattaforme con cui si utilizzano bancomat e carta di credito devono esserci in tutti i negozi e allora siamo sicuri che tutti i negozi abbiano il POS inoltre viene sottolineato all'interno delle carte che insomma che girano all'interno di Palazzo Chigi che insomma c'è un limite minimo di operazioni e questo ci porta a una riflessione un'ulteriore riflessione e cioè i negozianti dicono le commissioni sono troppo alte per quanto riguarda l'utilizzo di bancomat e carta di credito potrebbe anche non essere un vantaggio per noi piccoli negozianti piccoli esercenti inoltre servirà l'ok del garante della privacy e della corte dei conti cosa non da poco inoltre occorre un sistema che permetta di far dialogare le amministrazioni dello Stato con il sistema dei pagamenti e anche questo non è un passaggio minore sostanzialmente c'è anche da dire che il governo sta cercando di mettere nero su bianco anche alcuni incentivi in modo tale che questo provvedimento possa funzionare e cioè per venire incontro ai negozianti e non soltanto si parla di credito d'imposta per le commissioni pagate dai piccoli esercenti in vigore dal primo luglio scorso detrazioni fiscali solo per prestazioni pagate con moneta elettronica esenzione fiscale per chi usa buoni pasto elettronici infine attenzione all'abbassamento del tetto del cash che dal 2022 scenderà ad appena 1000 euro nel 2021 invece andremo sotto i 2000 euro basterà dunque il bonus da 300 euro per iniziare la lotta vera all'evasione fiscale o si tratta semplicemente dell'ennesimo bonus della repubblica dei bonus e cioè appunto l'italia questa italia con questo governo grazie grazie grazie